signori salve e benvenuti in questo nuovissimo video allora campagna sky island a sorpresa ragazzi ho visto tutto al volo stamattina quindi vediamo qua insieme per la prima volta allora gun for farmabile che dicono che hanno tratti anti rogers ma andiamo a vedere al volo anche lui e nero boss battle meda evento allora diamo ma quando qualcuno recopri hp del 30 per cento quando c'è nella tesoro catturata boost cooldown della skill 1 del 10 per cento che tagano va ok vabbè e mi raccomando ragazzi medaglia evento sempre da farmare andiamo invece a vedere gun power gun for il farmabile uscito allora vediamo eccolo qua eccolo qua eccolo qua eccolo qua gun force cavaliere celeste allora non ho realizzato bene il pg c'è il modello del personaggio l'hanno fatto l'hanno fatto bene davvero skill vediamo un po defender dark ok skill 1 attacco a lungo raggio con effetto knockback annulla lo stagger per un certo periodo di tempo impact dial a counter ok quindi se fa successo il nemico ok incrementa il proprio attacco e infligge un attacco a medio raggio se fallisce va bene diventa temporamente invincibile dopo l'utilizzo se non attacca il nemico dopo un certo periodo di tempo ok infligge un attacco a medio raggio quindi incrementa l'attacco del 20 per cento effect time 10 secondi skill attack 790 knockback effect skill attack 527 knockback effect cooldown 31 secondi non sembrano bruttissime le skill tratti quando attacchi un nemico con la skill 2 riduce gli animi del 100 per cento del danno inflitto riduce il cooldown della skill 2 del 50 per cento ah quindi se il counter funziona ti one shotta lo ha capito ok quando i tuoi capisci sono maggiori del 50 per cento o più ok avrai un hp sarei con un hp rimasto quando anche se il nemico ti killa quando i tuoi capisci sono maggiori del 50 per cento o meno riduci il danno ricevuto del 50 per cento e incrementa il cooldown della skill 2 del 100 per cento raga ma ma attenzione i tratti sono buoni cioè per un farmabile sono degli ottimi tratti quando sei nell'area del tesoro riduci i danni ricevuti del 30 per cento quando knockback è un nemico nell'area del tesoro torno a catturata incrementi il cooldown della skill nemica del 50 per cento e attacco ridotto del 30 per cento per 20 secondi con i tuoi lati non sono vicino all'area del tesoro catturato resistenza stag nel knockback e annulla gli status che ti immobilizzano dal nemico quando sei down ricopri HP del 15 per cento signori sto defender non è muffa cioè come farmabile non è muffa anzi ha veramente delle buone qualità e sono curiosissimo di questa skill 2 magari faremo delle reaction a alcuni gameplay che hanno fatto su youtube su questo personaggio per vederlo magari bene a fondo però raga è veramente interessante il carissimo gun 4 farmabile non da buttare ovviamente ragazzi non pulateci gemme però se non pulateci gemme punto niente se senza se ma a meno che non vi piaccia ma dubito che piaccia qualcuno gun 4 è mai dire mai però ovviamente potete schippare come farmabile ragazzi non è muffa dai tratti assolutamente non è muffa da buttare sono contento che abbiano deciso di mettere la campagna a tema skypea quindi bandai si è ricordata che non esiste solo uano e questo è buono sarà interessante perché magari i bounty festival sanno proprio a tema di questa saga anzi credo che di solito quando fanno il farmabile anche il bounty festival è a tema della stessa saga e sarebbe veramente un'ottima occasione per fare un nuovo e nero bounty festival rotto magari runner bandai te la butto lì potrebbero fare a home e anche a attori che sono i sacerdoti viper mai dire mai un altro viper ci starebbe anche se c'è hanno già fatto il 3 stelle che è inutilizzabile però l'hanno fatto quindi non so se faranno viper però un nero rotto in meta anche perché oggettivamente è uno dei primi grandi villian di one piece e una bella versione rotta secondo me se la meriterebbe vediamo magari faranno farebbero anche qualche membro della churma non saprei sinceramente non saprei di skypea bah sinceramente eviterei signori ditemi voi cosa ne pensate in generale di questa campagna di skypea e siccome vorreste un nuovo enero e dire che dire abbiamo visto le novità ah si questa sera sono in live mi trovate in live per le 21 che faccio la boss battle farò la boss battle e faremo anche delle league se riusciamo ci vediamo con il prossimo video e niente ciao ragazzuoli alla prossima